Perché Sboarina è stato costretto a questo tradimento politico? Se lo chiede Michele Croce, ex presidente di EGSM, da ieri pomeriggio, da quando l'intero CDA della Multi Utility ha dato le dimissioni, facendo decadere anche il suo incarico. Abbiamo smontato tutte le ragioni per cui Sboarina ha deciso di farmi rimuovere dall'incarico di presidente, ha spiegato oggi in conferenza stampa. Le accuse mosse sulle spese per i festeggiamenti dei 120 anni e le consulenze degli avvocati Tirapelle e Scapini, ha concluso, si nascondono dietro ad un tradimento politico. Da ieri finalmente il sindaco Sboarina non si permette più di parlare di consulenze, perché non c'è un problema con consulenze, visto che sono diminuite del 30%, cioè di 800 mila euro ogni anno, non si permette più di parlare di spese di 120 anni, visto che sono state rendi contate in base alle file ottenuti dagli uffici di EGSM. Ieri però il sindaco ha ritenuto di dire che la sfiducia per lui sarebbe mancata su due pareri dati a due avvocati. Oggi ho voluto chiarire, con dati e documenti alla mano che vedete tutti, che quello che sostiene sostanzialmente non è vero. L'avvocato Scapini, io avevo dichiarato a Federico Sboarina che aveva reso un parere, anche se in seconda battuta perché gli uffici subito non me lo dissero, e attenzione, io non ho mai avuto alcun rapporto con la Toscapini, quindi sgombriamo il campo da pretesi conflitti di interesse. Mentre sull'avvocato Tirapelle, che effettivamente è stato mio difensore, io scrissi a Sboarina che mi aveva sostituito in due udienze. In realtà mi sbagliai, mi ha sostituito in un'udienza, che ho regolarmente pagato con bonifico, e mentre il deposito della quarela è venuto prima che io facessi il mio consiglio di amministrazione in la GSM, e quindi nessuna possibilità di conflitto di interessi. Quindi di fronte ai documenti che sono questi che ho esibito oggi, purtroppo assistiamo ancora a delle bugie da parte del Sindaco di Verona. Io d'altronde ho espresso oggi qual è il dato che lui ha dichiarato davanti a testimoni il 12 marzo nel suo ufficio. Michele, o te o io. Io lascio i cittadini capire perché, perché o lui o io, che pressioni ha subito. Siamo di fronte a un tradimento politico da parte del Sindaco nei confronti di Michele Croce e di Verona Pulita e degli elettori suoi e nostri che hanno sostenuto Federico Sboarina a balottaggio.